La procura della Repubblica di Roma ha disposto l'autopsia sul corpo di Beau Solomon, il 19enne statunitense trovato morto nelle acque del Tevere. L'esame dovrà verificare se il giovane sia morto per annegamento o per i colpi ricevuti durante una lite avuta con un senza tetto di 41 anni, fermato con l'accusa di omicidio. Il giovane statunitense si trovava a Roma per studiare alla John Cabot University. Grazie a tutti.